Ed ora cambiamo argomento, parliamo dell'Associazione Papà Separati di Cremona perché questa sera abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi il Presidente Massimo Brunini, Presidente dell'Associazione, buonasera e benvenuto e il Legale dell'Associazione Andrea Guarnieri, buonasera anche a lei Dunque Presidente, partiamo da lei, questa mattina si è svolto un convegno molto partecipato, ce ne vuole parlare? Sì, noi siamo proprio riduci da un convegno che abbiamo tenuto stamattina nel Comune di Bozzolo che approfitto, ringraziamo subito tutta l'amministrazione comunale che ci ha dato appunto il patrocino e la possibilità di organizzare questo convegno ringrazio anche e soprattutto il Consigliere Malvezzi di Regione Lombardia che è stato uno dei relatori e poi come appunto precisava lei abbiamo ottenuto una grossa partecipazione di pubblico e di enti locali che questo ci ha fatto molto piacere perché è l'unico mezzo che oggi come oggi abbiamo per far conoscere la realtà dei genitori separati e soprattutto della tutela dei figli di me onori che esiste oggi nella nostra provincia Bozzolo è appena appena al di fuori della provincia di Cremona e Mantua però siamo molto vicini, oramai siamo vicini di casa e quindi abbiamo deciso proprio di spostarci su quella realtà lì Ecco, brevemente quali sono le tematiche che avete affrontato? Le tematiche abbiamo parlato in particolar modo della legge 54 del 2006 che è quella sull'affido condiviso perché proprio questo mese compie dieci anni da quando è stata varata in Italia e abbiamo valutato quello che in dieci anni è cambiato appunto da quando è uscita la legge 54 ad oggi quindi quelle sono state le problematiche delle quali abbiamo trattato di più su questo Ecco, però ultimamente avete presentato anche un progetto davvero molto interessante ce ne vuole parlare lei? Sì, un progetto a nostro avviso molto interessante e soprattutto innovativo in quanto si tratta di un gioco che avrebbe la finalità di unire e di fare in modo che la famiglia anche dopo magari spiacevoli vicissitudini in quali possono essere separazioni, divorzi o tematiche attinenti a questo possa ritrovare una serenità perduta sicuramente può definirsi un gioco terapeutico che ha anche la finalità di andare oltre il tempo dedicato al gioco stesso in quanto il tale gioco prevede delle esperienze che vengono scelte da tutti i componenti della famiglia o da chi ne vuole fare parte, quindi mamme, papà, figli e una volta scelta l'esperienza lo scopo del gioco è appunto realizzarla attraverso uno scambio di domande a volte anche riguardanti magari le personalità dei facenti parte del nucleo familiare e appunto attraverso questo scambio e questa interazione si giunge ad un'esperienza che poi verrà effettuata nella realtà quindi un gioco che ha un tempo, che va oltre il tempo del gioco stesso abbiamo voluto chiamarlo appunto Go Family Go in quanto a nostro dire la famiglia deve continuare ad essere tale anche dopo magari una separazione, un divorzio o una vicissitudine di questo tipo Ecco Avvocato, quali sono le problematiche a livello legale che lei si trova più spesso a dover affrontare? Ma sicuramente sono tematiche legate alla difficoltà nel pagamento degli alimenti e spesso anche a sentenze molto ingiuste che vedono molto ridotto il tempo di permanenza del minore con uno piuttosto che l'altro genitore noi ci chiamiamo papà separati ma ahimè la tematica coinvolge anche molte altre donne tant'è vero che in associazione possiamo vantare ben 5 iscritte Presidente concludiamo con lei, le chiedo quanti sono i soci appunto dell'associazione cremonese e appunto quali sono i servizi che offrite? Certo, noi come servizi offriamo intanto, parto prima dei servizi che abbiamo un punto di ascolto presso il comune di Cremona o meglio presso gli uffici di spazio comune per tre giorni alla settimana che sono il martedì, il venerdì e il sabato mattina come iscritti, considerando che noi siamo partiti il primo luglio dell'anno scorso siamo intorno alle 52-53 persone iscritte corrego l'avvocato, le mamme siamo arrivati a sette sì, siamo a sette mamme e gli altri sono maggior parte padri e qualche vicino parente Brevemente cosa offrite? Noi offriamo, ecco, oltre a quelli che sono gli incontri di mutuo aiuto quelli che teniamo presso il centro delle famiglie una prima consulenza psicologica e legale proprio nei nostri punti d'ascolto totalmente gratuita Benissimo, ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi grazie, arrivederci, a presto Grazie a lei, buonasera Grazie a voi Grazie a voi